In questa stagione, che è la stagione dell'autunno, sentirai molte persone tossire. Perché la tosse proprio viene in questa stagione? Perché, tecnicamente, secondo l'antica medicina taoista, questa è la stagione dove il pieno energetico, si dice, proprio il massimo energetico, si svolge la funzione del polmone dell'intestino crasso. E se tu ci fai caso, maggior parte delle persone si lamentano di stitichezza, colite, infiammazione dell'intestino e tosse. Quindi, che messaggio ne ricavi del tuo corpo? Perché sai che ogni dolore, ogni sintomo, ti porta un'informazione del tuo stato di salute. Sicuramente la funzione del polmone e dell'intestino è indebolita. Perché i polmoni, se dobbiamo parlare a livello di una gerarchia, sono come i soldati. Ai tempi del re, al tempo dell'imperatore, ai tempi dell'imperatore, i soldati, se erano ben allenati, se erano in piena forza, l'imperatore sicuramente era protetto, era in sicurezza. Quando i soldati erano deboli, appunto avevano poco da mangiare o non erano ben allenati, con poca forza, allora l'imperatore era facilmente attaccabile. Funziona così nel nostro corpo. Quando il polmone non svolge bene la sua funzione, perché sicuramente è indebolito da qualcosa, da qualche problematica, e questo poi si vede nel materiale di consulenza individuale, allora sicuramente già hai queste informazioni, ti do queste informazioni importanti, che c'è un livello basso di difesa immunitaria nel tuo corpo. Cosa potresti fare? Ti do proprio tre, tre semplici consigli. La prima cosa, fai attenzione di coprire questa parte, di essere coperta, la parte del torace. Quindi prenderti, magari puoi stare con la malietta, maniche corte, però qui il torace dovrebbe essere coperto, sia la parte davanti con una giacca, qualcosa, essere coperto. Ha bisogno di un calore questa zona qua, ok? Perché appunto nella piena, nel pieno energetico. Il secondo consiglio, bere delle tisane calde, e comunque qualcosa di caldo, anche come cibo. Inizia a sostituire già dei cibi freddi con dei cibi caldi. E il terzo consiglio per il discorso della tosse, o comunque quando senti basse le tue difese immunitarie, un punto importante è proprio qui, sotto la clavicola, c'è una fossettina, in tutte e due le parti, se tu ti tocchi, sentirai che fa anche un pochettino male. E quindi con la mano in questo modo, con il polso morbido, puoi stimolare così questi due punti. Io adesso non posso farlo con la seconda mano, perché sto tenendo la telecamera, ma tu lo puoi fare a casa. Quindi proprio dovrai sentire qui la risonanza, un suono, un momento che vai così, senti proprio il suono, il movimento non è leggero, ok? Poi dopo, sul discorso dei disturbi, e poi massaggia, alla fine massaggia un movimento rotatorio, circolare, ok? E senti riscaldare questo punto, questa zona. A livello invece di infiammazioni intestinali, stitichezza colite, lì sono da agire su diversi punti, che è un pochettino più complesso il discorso, e lì si vede nella consulenza individuale. Non è materiale di questo video. Quindi mi auguro che questa informazione ti sia stata utile, ti saluto e buona giornata! Ciao!